E non sono affatto convinto che ne sia uscita illesa. Buonasera, Spike. Hai sentito tutto quel chiasso? Giusto per farmi sentire in colpa. Secondo me non è la loro intenzione. Lo so. Tutti loro mi vogliono bene. Mi amano così tanto che è tutto più difficile. Io non riesco a seguirti, Buffy. Non lo so. Io sento che sto spendendo tutte le mie energie, provando a stare bene, così loro non si preoccupano. È sfibrante. Invece io... E così addio tranquillità. Vuoi che li faccia fuori? Mi verrà un gran mal di testa, ma ne varrebbe la pena. Lo vedi? Sorridi? Come mai arrivi sempre quando sono triste? È l'unico modo per trovarti sola. E poi, in questo periodo, non sopportò la gente. Nemmeno io. Lo stato d'animo è lo stesso. Cosa sai di finanza? Non so, ma che… Non so, ma che bene. Vai una maniera... ye'